Traffico in tilt per più di un'ora questa mattina in Viale Romagna all'altezza del ponte sul torrente Arzilla A causare il mega ingorgo con code chilometriche in entrambi i sensi di marcia è stato un tamponamento multiplo che ha visti coinvolti ben quattro veicoli, tutti procedenti nello stesso senso di marcia, ovvero verso Pesaro Il tamponamento a catena è stato generato da un furgone Iveco con alla guida un cinquantenne di Fano che non si è accorto della colonna ferma e che ha violentemente tamponato una Kia Picanto guidata da un fanese di 54 anni che per inerzia a sua volta ha tamponato una Mini One condotta da una donna che ha urtato il veicolo fermo davanti a lei una Peugeot 208 con alla guida un uomo residente a Fano di 42 anni A creare uno stallo nella viabilità e le code oltre alla careggiata sul ponte particolarmente stretta la necessità di rimuovere con il caro attrezzi la Kia tamponata dal furgone che ha avuto la peggio caro attrezzi che ha tardato alcuni minuti perché è rimasto anch'esso imbottigliato nelle code formatesi Sul posto per mettere in sicurezza i mezzi è anche una squadra dei vigili del fuoco di Fano e due pattuglie della polizia locale una per i rilievi necessari ed una per regolamentare il traffico particolarmente intenso nell'ora di punta traffico che poi ha ripreso il suo normale deflusso solo dopo le ore 9